Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Dove abbiamo chiesto di portare un accordo internazionale come quello siglato con l'Albania, che secondo la Costituzione va esaminato e ratificato dal Parlamento. Ecco, ci vediamo in Parlamento, li aspettiamo lì. Ma non sono cose alternative. Insomma, siamo davanti a un governo che però sta scalpestando costantemente le prerogative dell'opposizione. Quindi intanto li aspettiamo dove abbiamo chiesto. La Sette non ha risposto alla domanda. Cioè, perché non ci va? Perché ha paura del confronto? Perché, come dice Fiorello, non ha niente di nero da mettersi, quindi non può andare alla festa di Atreio? Oppure perché non le piace mai Colende, che è l'ispiratore? Non lo so, ci sarà qualcosa. Perché i più maligni dicono che ci sia la difficoltà di un confronto diretto con la Meloni che, quanto apparato retorico, è come lei, se non superiore, secondo i maligni. A me sembra che tutto dimostri che la difficoltà di confronto ce l'abbia Giorgia Meloni, ce l'abbia la maggioranza. Perché stanno sfuggendo da mesi su una questione molto concreta che è già in aula e che stanno cercando di rinviare come il salario minimo. Abbiano il coraggio di venire a dire no. Così come sull'accordo sull'Albania. Non pensino di cavarsela con una comunicazione del ministro. La Costituzione è chiara. Quell'accordo va approvato dal Parlamento. Quindi, è vero, non avrei comunque nulla di nero da mettermi. Ma il punto è, siamo in un momento in cui non è il caso di vederci alle feste di partito, ma di vederci dove dobbiamo. Vederci per affrontare. E le dico una cosa in più, perché lei è un osservatore attento. Più volte io mi sono rivolta con appelli pubblici a Giorgia Meloni. Ne ho raccolto uno ieri che partiva da Paola Cortellesi, che chiedeva giustamente che su un tema come il contrasto alla violenza di genere, la parità di genere, ci fosse un lavoro trasversale. Da mesi, da quest'estate, dai tanti, troppi femminicidi e violenze di genere, stupri, che dico, almeno sulla violenza di genere, riusciamo a mettere da parte la dialettica aspra tra maggioranza e opposizione per lavorare non solo sulla repressione, come abbiamo anche fatto in Parlamento, ma sulla prevenzione, cioè sull'agire prima che si radichi quella malata del possesso sul corpo. Abbiamo molto da parlare, quindi tenete a freno le vostre domande, perché è il momento.